Buongiorno a tutti e benvenuti in questa prestigiosa sala che oggi ci ospita la sala della biblioteca della fondazione primoli oggi il convegno si intitola emma perodi il periodo romano 1878 1898 in cui ricorderemo questa grande scrittrice giornalista direttrice di riviste per fanciulli e di riviste per moda per prima cosa devo dire che alcune autorità non sono potute intervenire infatti porto il saluto del sindaco e dell'assessore alla cultura del comune di roma impegnati con l'arrivo del presidente macron e questo ha creato qualche disagio nonché le previste allerta meteo per cui alcuni che dovevano partecipare non sono presenti in questo momento cedo la parola alla direttrice della fondazione primoli la dottoressa norci gaggiano che è la nostra ospite grazie allora benvenuti alla fondazione primoli anche da parte del presidente della fondazione primoli il professor roberto antonelli che oggi non può essere qui con noi e saluto i sindaci che credo ci seguano dal da lontano il sindaco di bibbiena il sindaco di cerreto gridi naturalmente il presidente dei parchi letterari carissimo amico stanislao de marsanic e anche il presidente del parco letterario emma perodi e delle foreste casentinesi e qui presente anche il presidente della fondazione murialdi siamo felici di questo incontro qui alla fondazione primoli che si allarga poi ai meravigliosi paesaggi del casentino patria di emma perodi e sono dei luoghi che anche per me che sono toscana sono particolarmente evocativi così come sono evocativi i nomi delle famiglie legate a emma perodi gli animali morelli adi mari nicolini e usielli tutti i nomi sentiti nella mia infanzia e giovinezza quindi oggi siamo qui a roma ma siamo anche nel casentino che penso vedremo in un documentario per celebrare una donna una scrittrice e giornalista che tra 800 e 900 al momento dell'unità d'italia ha dato un importante contributo sul piano culturale sociale e educativo come tutti sappiamo la parte questo questa giornata di studio riguarda proprio questo periodo emma emma perodi ha vissuto a roma per circa 20 anni alla fine dell'ottocento e qui ha diretto ha diretto il giornale per i bambini e proprio dall'esperienza romana sono nati i due libri cento dame romane qui molto utilizzato in in fondazione quando facciamo le nostre ricerche di archivio e roma italiana 1870 1895 e proprio a roma emma perodi e qui abbiamo il legame con questa fondazione ha conosciuto il frequente giuseppe primoli ne ha frequentato il salotto è stata in queste in queste stanze avete visto le lettere che abbiamo scritte a giuseppe primoli e anche l'esemplare del volume di le cento dame romane che ha offerto a primoli ecco concludo queste anche troppo lunghe parole ricordando una lettera in particolare quella scritta mi pare ecco nel giugno del 1896 a primoli in cui emma perodi offre il libro cento dame romane al conte e mi racconta dice appunto che questo libro dice che ho ideato in casa sua in casa qui cioè in queste stanze proprio mentre matilde serao svolgeva la conferenza le tre marie in un luminoso pomeriggio primaverile ecco a 170 anni più o meno 171 forse dalla nascita di emma perodi anche noi siamo qui in casa di giuseppe primoli per parlare di lei e quindi cedo la parola ai relatori che natura che che e vorrei anche ancora ringraziare la professoressa di maio per questa organizzazione per averci dato il piacere di conoscere a fondo questo personaggio grazie professoressa sono io che devo ringraziare di averci ospitato in questo luogo così ricco di ricordi storici e così bello devo dire adesso ci dovrebbero essere i collegamenti da remoto con la sindaca di cerreto guidi ed il sindaco di bibbiena cerreto guidi è il paese di nascita di emma perodi che vi nacque il 31 gennaio del 1850 anche se per qualche tempo non si era sicuri del luogo della nascita si pensava addirittura che fosse nata a firenze poi delle ricerche accurate presso una delle chiese di cerreto guidi nell'archivio parrocchiale hanno permesso di stabilire che effettivamente emma perodi era nata lì non so se siamo già in collegamento con il sindaco di cerreto guidi appunto che dovrebbe parlare eccola buongiorno buongiorno mi sentite sì buongiorno grazie innanzitutto alla professoressa anna maria de maio per questo invito e per l'organizzazione di questo convegno sono contenta e orgogliosa di potervi fare questo saluto orgogliosa del fatto che emma perodi come dicevate nasce proprio qui il 31 gennaio 1850 ed è grazie a giovanni micheli un nostro concittadino un giornalista prezioso a tutti noi abbiamo voluto bene purtroppo oggi non c'è più ma proprio lui che nel 1988 rintraccia questo atto di nascita nella parrocchia san leonardo qui a cerrete quindi come dire da a tutti questo documento che dichiara eh l'origine eh di emma perodi e l'appunto il suo eh certificato di nascita eh l'ambiente ceretese è presente in molti dei suoi racconti è presente ovviamente nei briganti di cereto guidi pubblicato eh nel 1901 per l'editore di ondo e noi siamo orgogliosi del fatto che una scrittrice che poi anche attraverso questo convegno eh conosceremo la sua grandezza abbia avuto i natali qui per questo abbiamo dedicato molti anni fa a lei la nostra biblioteca la nostra biblioteca si chiama Emma Perodi tra l'altro eh è stata riqualificata attraverso un bando di pregenerazione urbana mi invito a venire a cerreto a visitarla eh ma non solo per il nome perché poi dentro c'è proprio un luogo dedicato a lei che si chiama proprio spazio Emma Perodi l'abbiamo chiamato spazio non a caso perché è un ambiente dove ci sono tutti i suoi scritti dove ci sono dove c'è la possibilità di fare eh i laboratori con le scuole dedicato alle sue chiave ai suoi racconti c'è una mostra permanente che si chiama il fantastico mondo di Emma Perodi che è stata curata eh da Stefano De Martini da Federica De Paulis e da eh Valtestancarello che so che interverranno nel corso della giornata ma è anche l'occasione perché attraverso i suoi scritti come veniva appunto detto prima eh possiamo davvero eh far conoscere il più possibile la grandezza di questa grande scrittrice grande nel senso anche per mole di quantità di scritti veramente che eh che ha prodotto e se ci pensiamo bene avere quelle intuizioni dedicare la vita a un'attività pedagogica per i bambini in quegli anni in cui credo che fosse veramente ancora più complicato per una donna eh ne rivela ancora di più la sua modernità quindi sia per il pensiero per la cultura ma anche per eh per il suo impegno eh per i ragazzi e per i bambini ecco io credo che se pensiamo che al momento dell'unità d'Italia un'unità linguistica ancora non c'era eh il suo impegno e il suo eh coraggio e la sua modernità sia abbia ancora più valore per questo ecco noi cerretesi diciamo così possiamo esserne orgogliosi e eh dedicare molti progetti eh e molta attività soprattutto con i ragazzi ma poi ovviamente anche con gli adulti eh attraverso questi spazi attraverso anche eh molti progetti che abbiamo fatto nel nostro territorio e credo che questo ci porti a unire ancora di più eh dei legami che poi ovviamente con gli altri territori eh ci portano come stamattina a vedere le altre realtà che Emma ha visitato e ha eh dove ha vissuto per tutta la sua vita. Grazie. Grazie a lei signor Sindaco e ci auguriamo tutti di venire presto a Cerveto per vedere. Vi invito perché vedrete i luoghi natali di Emma Perodi e vedrete la nostra biblioteca. Benissimo benissimo. Ancora molte grazie. E adesso dovrebbe essere collegato il sindaco di Bibbiena. Bibbiena è uno dei centri del parco letterario Emma Perodi e le foreste casentinesi ed è uno dei borghi che sono ricordati nelle novelle della nonna. Questo straordinario eh volume eh che Emma Perodi pubblicò eh prima a fascicoli in novanta fascicoli eh nel mille ottocento novantadue novantatré e poi e poi furono raccolti proprio dall'editore romano Edoardo Perino con lui con cui lei collaborò tanto in un unico volume. Sono quarantacinque novelle ambientate tutte in un casentino goticheggiante ed è intorno al millequattrocento e alcune sono ambientate proprio a Bibbiena. Mi auguro che il sindaco sia in linea. Signori carissimi buona giornata non so se siamo già collegati da Bibbiena centro creativo casentino parco sede del parco letterario delle Emma Perodi. Il sindaco purtroppo stamattina aveva un problema con la protezione civile e sarà presente dopo alle tre quando cominceranno i nostri collegamenti. Eh innanzitutto quindi siamo qui io sono Annalisa Baracchi presidente del parco letterario a Matteo di accanto a me c'è la professoressa Pieroci che è la responsabile scientifica del parco. Innanzitutto buona giornata e grazie di questa opportunità grazie alla professoressa di Maio a Stanislao de Marzanic che ha dato a battesi con il nostro parco ormai da diversi anni. La professoressa prima ha parlato di casentino, noi siamo il casentino, quindi siamo il casentino, terra di Emma Perodi, terra dove Emma Perodi ha inserito e scritto e ricordato le proprie novelle. Il testo delle novelle che chiaramente dal focolare della Sia Malpucci poi dopo si espande a tutti i luoghi del casentino sul quale sono eh rinominate e rinnovate tutte le novelle. Eh abbiamo un'attività che eh si svolge durante tutto il corso dell'anno con le panchine letterarie, abbiamo istituito questa eh iniziativa di segnare il territorio luoghi delle Emma Perodi che hanno quindi anche un segnale fisico con la panchina letteraria con i totem. Riuniamo i cinque comuni principali di casentino e soprattutto il parco delle foreste casentinesi perché il parco letterario delle Emma Perodi è parco letterario Emma Perodi e le foreste casentinesi perché il parco è uno dei parchi nazionali più riconosciuti e certificato green a livello UNESCO quindi è l'ambiente nel quale i comuni sono inseriti dove si svolgono le novelle della nonna. Avremo più tardi nel pomeriggio il nostro intervento con la presentazione del libro eh una firma della professoressa Firoci eh sponsorizzato dal comune di di Piena. Abbiamo la presentazione del nostro video quindi un saluto grande passo un attimo la parola ad Alberta che saluta anche lei in quanto responsabile proprio scientifica del parco. Sì buongiorno a tutti eh diciamo la nostra attività è dedicata in particolar modo alle scuole ai ragazzi del territorio proprio perché crediamo che eh la conoscenza di questa eh scrittrice sia importante veicolarla attraverso coloro che dovranno in qualche modo poi mantenere il viva appunto ehm questo questo aspetto culturale che identifica attraverso la letteratura in maniera proprio speciale eh questo territorio e eh l'aspetto più significativo che poi è quello anche a livello architettonico proprio del medioevo eh tempo nel quale e dal quale ehm attrae personaggi e avvenimenti storici proprio per il suo capolavoro. Quindi grazie a voi, grazie del collegamento e ci ritroviamo poi nel primo pomeriggio con la presentazione dei nostri lavori. Grazie presidente, grazie professoressa Piroci e adesso do la parola al dottor Stanislao De Marsanice, presidente dei parchi letterari. Bene, resto seduto per comodità. Eh io mi saluto a nome di tutta la rete dei parchi letterari, dei trenta parchi letterari che sono presenti in Italia e poi dall'Italia. Siamo ventotto in Italia, due in Norvegia e altri ne stiamo istituendo in Belgio e in Francia. Saluto la professoressa Di Maio che che tanto è amica non solo del parco Ema Perodi ma di tutti i parchi letterari e ringrazio la fondazione Primoli e la professoressa Norcica Giano e che che sa quanto mi fa felice essere qui accanto 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 a lei insomma e saluto il professor Colangelo e mando un grandissimo abbraccio a Casentino, saluto ovviamente la sindaca di Cerreto Guidi che ringrazio e tardi saluterò il sindaco di Bibbiai ma mando un grandissimo abbraccio a Casentino e alle persone di Annalisa Barracchi, presidente del parco letterario Ema Perodi e le foreste casentinesi e della professoressa Piroci Branciaroli che tanto fanno per i parchi letterari tutti non solo per il casentino. Un parco che ha un valore veramente fondamentale per la rete dei parchi nel nome di Ema Perodi, lo diceva la professoressa Piroci, il centro creativo casentivo che coordina il parco letterario che unisce sei paesi della valle e insomma anche alcuni altri territori sotto leggi dal parco nazionale palestri casentinesi ha un valore importante proprio perché coinvolge le scuole, coinvolge le scuole in un luogo che ha un'importanza fondamentale sia dal punto di vista ambientale, parliamo appunto delle foreste casentinesi tra cui rientrano le foreste sacre, siamo nei territori anche di Laverna e di Camaldoni, è un ruolo fondamentale appunto per la sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole ma anche dei ragazzi che studiano all'università rispetto alla cultura ambientale e la Perodi è un esempio importantissimo, le novelle sono un lunario legato alla filiera agroalimentare e un ruolo fondamentale lo ha anche la figura del forestale, il forestale che per noi è un altro soggetto di primaria importanza proprio perché ci lega a un accordo che la rete dei parchi letterari ha siglato, un protocollo d'intesa con i carabinieri forestali, con il CUFA, con il Comando Unità Carabinieri Agroalimentari e Forestali che ci spinge a lavorare sempre di più per quelle che sono, che è una cultura delle comunità. I parchi letterari sono che cosa, e concludo, sono dei luoghi di ispirazione, un parco letterario, il parco letterario non è dedicato a Emma Perodi, è dedicato ai territori descritti ma che hanno ispirato la stessa Perodi e che la sua sensibilità ha portato a noi attraverso la sua opera, un'opera meravigliosa che grazie alla professoressa De Maio, alla professoressa Piroci e ad Annalisa Baracchi che ancora ringrazio tanto, ho scoperto forse un po' tardi, consiglio di non leggerli proprio la sera perché non dormi più, però sono avvincenti e lo sono soprattutto se poi vai a visitarli quei posti. Due settimane fa proprio grazie al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e al Parco letterario abbiamo fatto un giro meraviglioso nelle foreste sacre intorno al Santuario della Verna proprio per la posa della seconda inaugurazione della seconda panchina dei cammini letterari del Parco Emma Perodi delle foreste casentinesi, un percorso meraviglioso che ricordava sia i luoghi sacri di San Francesco sia i luoghi danteschi perché quello è il sasso della Verna, il sasso, non faccio citazioni perché tanto lo sbaglio sicuramente e comunque è Dante, il paradiso, e poi i luoghi delle streghe, dei folletti, dei fantasmi raccontati da Emma Perodi che insomma che vagano ancora oggi per tutta la valle. Percorso meraviglioso nelle foreste sacre che hanno un valore ambientale importantissimo anche storico perché lì sono le foreste tenute dai francescani quindi con un sistema di conservazione che è diverso da quelle tenute nel monastero di Camaldoli quindi ci sono delle situazioni diverse ma con uno scopo comune di preservare il territorio. Tutto questo e concludo per arrivare poi in cima al monte quindi al monastero, al santuario della Verna dove grazie ancora perché è stata una bellissima esperienza dove il padre guardiano ci ha accolto e ci ha aperto le porte della biblioteca e che è anche lì, qua siamo una biblioteca meravigliosa e fare anche questi gemellaggi ideali tra le luoghi di cultura così importanti è bellissimo. Il padre guardiano del monastero del santuario della Verna che parla delle fiabe, delle novelle della nonna insieme al presidente del parco nazionale delle foreste casentinesi è veramente bello perché è un lavoro che spinge ancora di più a mantenere viva questa rete che ormai ha una sua esperienza in termini di attività in termini di coinvolgimento delle popolazioni è piuttosto importante. Quindi grazie ancora, grazie a tutto il casentino, alla fondazione Primoli e naturalmente alla professoressa che veramente mi ha introdotto a me, che lavora ed è un'amica sincera dei parchi letterari tutti, non solo Emma però. Grazie infinito. Grazie dottor De Marsanice e sempre complimenti per il suo impegno nell'opera dei parchi letterari nell'aumentarli continuamente ma non solo in Italia ma anche all'estero per cui io mi auguro che presto ci sarà anche un parco letterario Giannanguissola e la Valtrebbia, altra scrittrice di cui abbiamo parlato in altre occasioni. Adesso vorrei che venisse per un breve intervento il rappresentante presidente della fondazione Murialdi che ci ha onorato della sua presenza. Prego, prego si accomodi qua. Scusate, ho un accordo vocale in meno quindi la mia prestazione non è eccezionale. Io vi porto un brevissimo saluto della fondazione Murialdi. Sono non il presidente ma il segretario generale della fondazione Murialdi, Giancarlo Tartaglia. Il presidente della fondazione è a turno, uno dei rappresentanti delle organizzazioni che hanno costituito la fondazione Murialdi. La fondazione Murialdi è una fondazione costituita da Federazione Nazionale della Stampa, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Istituto di Previdenza dei Giornalisti, Cassa Integrativa Sanitaria dei Giornalisti. Sono i quattro enti della categoria giornalistica italiana che hanno voluto dare vita a questa fondazione intitolata appunto a Paolo Murialdi e con lo scopo di raccogliere la memoria del giornalismo italiano e di sviluppare gli studi e la conoscenza anche sui problemi attuali del giornalismo. Quindi ci muoviamo su un duplice binario, quello storico e quello il punto di vista della attualità. Quindi abbiamo accolto con estremo favore questo invito dalla professoressa De Maio a volere dare il nostro patrocinio a questa iniziativa. Perché? Anche perché Emma Parodi è stata, è stato ricordato qui ampiamente, una giornalista e il problema delle donne giornaliste è uno dei problemi che noi come Fondazione Murialdi affrontiamo, ripeto, sia sul piano storico sia sul piano dei problemi attuali. E voglio ricordare quando la professoressa De Maio ci ha rivolto questo invito, mi sono ricordato che il problema delle donne nel giornalismo è un problema molto antico. Nel 1894, quindi stiamo parlando già di due secoli fa, si svolse ad Anversa un congresso internazionale della stampa, al quale partecipavano i rappresentanti delle associazioni di stampa allora presenti. E in quel congresso ci fu una relazione di una giornalista inglese, Grace Benedicta Stewart, la quale svolse una relazione sulla donna nel giornalismo. La relazione non fu accolta con molto entusiasmo dai relatori e non ci fu neanche un testo finale sull'argomento perché alla fine insomma si concluse che la donna non era portata al giornalismo, che la donna si poteva occupare di altre cose, ma certo di reportage, di inchieste, non era il suo mestiere. Quindi, questo è l'albore del giornalismo e le donne giornaliste sono state certamente poche e una di queste poche è appunto la Emma Perodi e quindi, ripeto, per noi, anzi, siccome nelle nostre attività c'è anche una collana di studi biografici sui giornalisti e tra l'altro abbiamo pubblicato un volume su Irene Brin Irene Brin è un'altra letterata giornalista anch'essa tra l'altro creda sia nato proprio l'anno in cui moriva Emma Perodi forse è sbaglio ma credo comunque siamo in quel periodo quindi noi saremmo lieti di poter accogliere faccio un invito alla professoressa De Maio nella nostra collezione una biografia appunto di Emma Perodi proprio perché, ripeto, noi vogliamo approfondire la storia del giornalismo italiano e i personaggi che hanno contribuito a questa storia che poi è anche la storia del nostro del nostro paese ripeto poi ci occupiamo anche di problemi di attualità e i problemi di attualità sono numerosi soprattutto per giornaliste nel senso che abbiamo pubblicato il fatto degli studi sulle vessazioni sulle persecuzioni nei confronti delle giornaliste che oggi svolgono la loro attività quindi ripeto sia per quanto riguarda la storia del giornalismo sia la presenza della storia del giornalismo sia quelli che sono i problemi delle donne nel giornalismo attuale noi siamo ben felici di collaborare con voi quindi mi fermo qui a portare questo saluto della Fondazione Murialdi grazie io la ringrazio moltissimo della sua partecipazione e la ringrazio anche di questa proposta che mi trova assolutamente d'accordo nella possibilità di realizzare una biografia della Emma Perodi giornalista io conto anche non c'è stato il tempo tecnico perché erano in fase di rinnovo tutte le cariche dell'ordine degli giornalisti ma io mi auguro che possa essere data ad onore ma alla memoria una tessera di giornalista a Emma Perodi questo lo facciamo senz'altro nel senso come appunto le ricordavo come le hai già detto ci sono i rinnovi delle cariche degli ordini tra l'altro il 3 dicembre si insedia il nuovo consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti questa cosa la facciamo volentieri tra l'altro voglio ricordare che proprio l'intesa con l'ordine di Roma in una nostra recente iniziativa abbiamo restituito la tessera di giornalisti ovviamente alla memoria a quei giornalisti ebrei che erano stati cancellati dall'albo dei giornalisti durante il periodo fascista quindi anche questa iniziativa di restituire la tessera e di ricordare la memoria di chi ha onorato questa professione rientra nelle nostre attività quindi anche questo lo seguiremo con particolare attenzione benissimo la ringrazio molto la ringrazio molto e adesso abbiamo il piacere dell'intervento della Presidente del primo municipio di Roma che prego di venire qui al tavolo per dare anche il suo benvenuto ai congressisti allora non Presidente ma sono Assessore a me no per carità però per essere insomma precisi sono Assessore appunto alla cultura del primo municipio e sono neoletta diciamo sono stata così accolta devo dire dal Presidente che mi ha voluto perché non ho un passato politico diciamo sono una storica dell'arte e sono mi sono diplomata all'istituto centrale del restauro e poi mi sono ho fatto un percorso legato al marketing e al management del patrimonio culturale e ho fatto diciamo ho un'esperienza pluriannale nel settore della valorizzazione dei beni culturali devo dire che l'invito ho accettato molto volentieri questo invito che la Presidente mi ha girato per essere presente qua per dare testimonianza che insomma un po' l'aria è cambiata al primo municipio nonostante noi abbiamo reeditato devo dire una situazione valorosa insomma l'unico problema che abbiamo è con la carenza di personale è una situazione penso abbastanza seria in tutti i municipi perché ci stiamo vedendo fra stiamo creando proprio delle collaborazioni con altri municipi su tematiche come quella della cultura io nelle mie guida ho iniziato proprio dicendo più cultura nelle scuole infatti io ho la delega alla cultura e alla scuola alle politiche scolastiche oltre che quelle giovanili allo sport quindi abbiamo cercato di unire di inserire dentro la cultura tematiche che potessero essere trasversali necessariamente perché la cultura deve cominciare a parlare sin da quando i bambini sono piccoli e dico l'ho accettato molto volentieri perché Emma Perodi per me sin da quando ero piccola io ho ereditato dalla mia bisnonna il volume dei racconti appunto della nonna quindi la famiglia Marcucci mi ha accompagnato prima me le leggeva lei la mia nonna e poi appunto questo volume è passato alla mia mamma e nonostante sia ancora viva è assolutamente operativa e attiva e quando mi sono sposata il libro è arrivato nella mia biblioteca e io l'ho letto ai miei bimbi io ne ho tre ora sono già un pochino più grandi perché il mio più grande ha 13 anni e quindi ecco per me Emma Perodi è stato un esempio pensate che me lo sono riletto durante il periodo del lockdown perché ho tre figli maschi un marito un cane maschio quindi ogni tanto avevo bisogno di così di rileggermi o comunque di immergermi nel bagno perché ma era l'unico spazio che mi rimaneva in casa per tutti i collegamenti in dad dei ragazzi mio marito il lavoro e comunque quindi alla fine mi chiudevo in bagno così mi lasciavano in pace e leggevo proprio esempi di resilienza femminile che mi potessero dare forza perché capivo insomma se ce l'hanno fatta loro ce la possiamo fare anche noi quindi veramente complimenti io purtroppo non mi posso fermare perché in questa fase stiamo cercando di prendere contatto con tante realtà e di farci conoscere di far capire che insomma il municipio c'è io vorrei proprio portare il no ma anche riuscire a collaborare con voi perché quello che mi sono promessa di fare in questo mandato è di cercare di riaprire le biblioteche di creare una rete per biblioteche pubbliche biblioteche private punti di lettura anche per anche e soprattutto per i ragazzi mi tazzo e lascio assolutamente a voi la parola io la ringrazio molto restiamo sicuramente in contatto questo continuano ancora i billettini istituzionali quindi quello vecchio ma ho messo l'indirizzo nel nuovo anche l'associazione di cui io faccio parte il gruppo di servizio per la letteratura giovanile è molto impegnato nel campo della letteratura per ragazzi della lettura dei laboratori didattici nelle scuole del contatto con le biblioteche e quindi sicuramente potremo avviare una collaborazione proficua benissimo soprattutto per i nostri ragazzi che ne hanno tanto bisogno io ho avuto cinque figli adesso ho cinque nipoti quindi sono in prima linea per portare la cultura ai nostri ragazzi ecco quello che mi piace di Emma però dei racconti insomma che che si leggono è che veramente ci riporta ad una dimensione in cui esisteva una comunità educante ed è quello che noi dobbiamo tornare ad essere noi tutti per questi ragazzi ora noi viviamo in appartamenti molto più piccoli in situazioni dove non c'è più magari la possibilità di una zia o di una nonna o anche di un fratello più grande che si possa prendere cura quando si avevano i figli i figli diventavano della comunità non erano solo dei genitori quindi io ne ho tre ed abito qui in centro quindi conosco perfettamente tutte le difficoltà che una famiglia può incontrare e rileggendo queste novelle insomma della della Perodi ci si può ispirare davvero ci si può ispirare e ricercare quei rapporti per diventare che possono essere a questo punto la maestra di scuola o magari la mutua assistenza che si ha fra genitori cioè ricreare quella comunità educante perché tutti siamo responsabili di questi ragazzi assolutamente grazie grazie ancora buon lavoro perché sicuramente ne avrà tanto da fare e adesso che sono finiti i saluti delle autorità invito il professor Gennaro Colangelo al tavolo che ci introdurrà nel spirito del convegno e soprattutto nell'atmosfera della Roma fine ottocento attraverso la proiezione di un video e adesso il professor Colangelo vi parlerà e vi spiegherà di che cosa si tratta prego professore grazie è motivo di particolare gioia a verificare la rete che si è creata non solamente in questa occasione attraverso il gruppo di servizio per la letteratura giovanile e altre strutture edenti che hanno qui testimoniato i loro interventi perché questo è il momento giusto per ripartire con la promozione della cultura nella scuola nella famiglia nell'associazionismo nel terzo settore dopo un lockdown che ci ha stremato dal punto di vista delle opportunità relazionali ma che tuttavia ci ha fatto ripensare il tempo e lo spazio sia domestico che pubblico il gruppo di servizio ha operato attraverso un prodotto audiovisivo che purtroppo non può essere ancora divulgato attraverso il web perché è in fase di post produzione ma lo stiamo ultimando grazie al prezioso concorso dell'associazione artisti italiani fondata da Christian Merli che è un produttore professionista e a Machina Lab che è un gruppo creativo io ringrazio Christian Merli che è arrivato apposta a salutarci perché ci fornisce in tante interazioni culturali non solo i puledri ma anche i cavalli di razza della sua premiata scuderia e sono artisti veramente importanti in questo momento Machina Lab e artisti italiani sono impegnati in un progetto di teatro scuola molto interessante e di forte valenza pedagogica infatti Christian Merli è qui accompagnato dall'attore Leonardo Sbragia che è uno dei protagonisti di questo progetto e che come naturalmente ricorderete porta già nel suo cognome un pezzo di storia del teatro italiano quindi queste sinergie devono essere costanti devono essere continuative e non possono essere episodiche il cortometraggio è un omaggio alla Roma di D'Annunzio e di Emma Perodi che a partire dal 1881 anno in cui D'Annunzio come vedremo nella mia relazione successiva arriva a Roma per iscriversi alla facoltà di lettere proveniente dal convitto Cicognini di Prato Emma Perodi era già a Roma infatti Emma Perodi rimarrà per circa un ventennio mentre D'Annunzio solo per dieci anni e il video è stato girato al Caffè Greco che è stato in esclusiva concesso a noi perché è più che mai necessario legare in termini territoriali la cultura ai suoi luoghi oggi gli studenti di liceo e di università che sono quelli che conosco di più magari voi conoscete anche le scuole primarie meglio di me ignorano gli scrittori romani o romanizzati che hanno caratterizzato certi luoghi pensate a Via dell'Oca il cui genius loci era Elsa Morante pensate ad Alberto Moravia pensate ai romanizzati Pasolini che sceglie Roma pensate a Calvino fra Roma e Parigi ecco questo raccordo territoriale diventa importante per inquadrare le opere ed è uno dei nostri scopi naturalmente adesso ci sarà questa visione per così dire al pubblico in presenza poi naturalmente può essere un'ottima opportunità per andare a Cerreto Guidi andare a Bibiena andare altrove a rappresentare questa metodologia come promo per tutti i parchi letterari questa meravigliosa creatura che grazie alla genialità del presidente Stanislao Demare Marsanic è di fatto una guida a quelle che sono le potenzialità inesauribili del territorio italiano magari ci possono essere delle nuove sinergie per produrre audiovisivi e per rappresentare sempre meglio questi personaggi per renderli vivissimi dopo la proiezione per la quale ringrazio il nostro Marco Lazzari che ci sta ancora lavorando avrò il piacere di spiegarvi le logiche della Roma di fine ottocento che noi abbiamo voluto rappresentare e come si inquadrino nelle profonde connessioni fra la persona di Emma e la persona di Gabriele grazie 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 io ti segui come iride di pace lungo le vie del cielo io ti segui come un'amica pace della notte nel vero e ti senti nella luce nell'aria nel profumo dei fiori che Quella sera, il conte e la contessa di Marciac, l'uno uscendo dalla sua stanza e l'altra dal suo boudoir, si incontrarono attraversando il salotto. In verità erano otto lunghi giorni e forse più che non si vedevano. Hanno forse mai tempo di vedersi, marito e moglie. Come non essere divisi la notte? Quando è necessario che la signora vada al ballo e il signore vada al circolo? Come stare insieme il giorno? Quando il signore dal suo agente di cambio e la signora dalla sarta si guardarono un poco sorridendo. Egli aveva l'abito nero per una festa con quadri di venditi dopo cena. Ella era in toilette a ballo. e la trovava lui molto elegante. Egli trovava lei molto bella. Buonasera, Andrea. Buonasera, Giuliana. Si guardarono ancora con piacere. Erano contenti di trovarsi così faccia a faccia. Si tesero la mano. Non parlavano. Ma pareva che dovessero dire qualche cosa. Erano sposi da non molto tempo. Come erano stati felici sul principio. Allora sapevano bene trovare il modo di stare insieme. Ella non andava al ballo. Egli non andava al circolo. Oh, quelle dolci sere in quel salotto dinanzi al caminetto sotto il chiarore languido dell'uomo mentre il tè fumava nella tazza della cina. Era dunque fuggita per sempre quell'epoca felice che sorrideva nella loro memoria. fuggita. Perché? Non era forse possibile riaccendere la rosea lampada dell'intimità? Non era forse possibile quella stessa sera ad un tratto sedersi nelle poltrone dinanzi al fuoco, prendersi le mani a bassa voce e suonare il campanello per chiedere del tè. Quanto sarebbe dolce rimanere a casa insieme ed amarsi ancora come una volta. si guardarono ancora teneramente. Le loro mani non si erano disgiunte. Un altro minuto e l'uno saltava al collo dell'altra. D'improvviso... Ma via, che avevano? Erano matti? Che idee strane erano quelle? Ebbero ambedue un piccolo sussolto e risero come fa chi si sveglia dopo un sogno impossibile. Uscirono dal salotto, discesero la scalina l'uno al fianco dell'altro, facendo delle ciarde insignificanti. Dalla porta si separarono. Buonasera, conte. Buonasera, contessa. e salirono nelle loro carrozze per andare ad annoiarsi senza neanche portare in fondo all'anima il rimpianto dell'occasione perduta. il che è rapito al suon della tua voce lungamente sognai e della terra ogni affanno ogni croce in quel giorno scordai Torna, caro ideal Torna un istante a sorridermi ancora Torna un sau Torna un soninnen Torna un'altra Torna un hit Torna unCuassio Aurora Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti Schermo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti 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 Prego Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti In questo Grazie a tutti 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 su cui Grazie a tutti 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 Un motto Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 in cui Grazie a tutti 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 E i morti Grazie a tutti 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 La notte Grazie a tutti 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 E adesso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E oggi Grazie a tutti 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 Conti di Grazie a tutti 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 su YouTube Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti